Ciao amici, guardate che regalo ci hanno mandato dalla EasyHatch due foni, uno portatile che c'è a tre velocità guardate, guardate una, due e tre vai, fattila vedere come si sta? la fa mamma mia, ragazzi un attimo, dammelo un attimo a me qui dentro c'è una pila che la potete ricaricare qui c'è la ricarica USB si ricarica come il telefono guardate, fermi un attimo qui ci rimette la presa per ricaricarla come i telefoni quindi la ricaricate come un telefono fa un vento dell'amadosca con tre velocità fai vedere gli interruttori ogni volta che premi il pulsante vai, premi ora questo qua parte parte super super mega mega, regà poi guardate quest'altro quest'altro, regà adesso le stanno stavano per fare i compiti voi li fate i compiti guardate questo questo qua non è tanto veloce questo qua riscalda però è più ampio non è velocissimo però è più ampio poi sta pure più distante se ti avvicini se ti avvicini lo senti di più praticamente sempre della easy hatch è possibile girarlo come volete è a qua l'interruttore 2, 1 ok? mettiamo 1 o 0 e poi c'è questa presa questa presa noi la possiamo volendo staccare e utilizzarlo anche appoggiato così sul tavolo guarda un po' sul tavolo adesso più vicino che figo aspetta che l'accendo guarda un po' che figata raga l'appiccicate dove volete e poi fai vede che ruota fai vede che ruota Ale fai vede questo guarda va ruota tutto ruota in qualsiasi direzione però un attimo mi vedete che si fa no non lo ah ma riesce a muovere pure la scatola fai grazie i siaccio ce l'hanno regalato ragazzi mettiamo il link di Amazon in descrizione oh mi raccomando se volete che ci continuino a regalare un sacco di roba mettete almeno 100 pollici in su così vedono che il video viene visto e ce ne regalano ancora tanta altra roba la batteria pure i siaccio ce l'ha regalata vedete questa qua sempre della i siaccio ce l'hanno regalata per farli vedere su un video sul mio canale che si chiama mille passi il mio canale che si chiama mille passi ah raga è eccezionale volete sapere quanto costano eh cliccate nel link in descrizione perché io non lo so ce l'hanno regalati a noi però sono una figata non potrei più vivere senza Alessandro tu potresti fare più senza questo attrezzo ah fai vede che si piega fai vede che si piega zitti non l'abbiamo fatto vedere aspetta eh fai vede come si apre Alessandro no così guarda questo lo premi indietro mannaggia no scusate stava spiegando Alessandro no tu ma pigli da qui dai tira giù la leva eccolo qua si piega ecco si ok e ti metti in borsetta riaprilo ok dai riprovati laggiù qui io premo qua capito stringo un po' all'interno praticamente stringa all'interno e si apre e si chiude anche così certo lo potresti appoggiare anche così anche così vedi che è puntato verso l'alto no anche così vabbè vabbè comunque così va bene l'appoggi così e te lo direzioni come ti pare vedi quando devi studiare esatto esatto ma guarda che fa un sacco di vento è bellissimo easy hatch tira giù subito guardate che bello raga mettetevi davanti allo schermo e pensate che c'è vento mamma mia come se sta freschi ragà no 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 è fantastico non so quanto costa ma secondo me le vale tutte non so quanto ma vada si ha messo il turbo porca miseria vabbè saluta chiede se ci metto il pollice in su raga potete vedere pure i capelli guardate guardate che si muove l'idea di Roma non si muove l'idea ce l'ha troppo corti eh quando si tipo la mamma guardate va bene ciao ragazzi pollice in su ciao ragazzi ciao